I bambini stanno su queste sedie e poi la gente scenderà dove mettersi, i bambini qua davanti. Ci si prepara con emozione, da 0 a 96 anni tutti prendono posto per mettersi in posa. L'islivello di 40 centimetri deve consentire a chiunque di essere ben visibile per lo scatto destinato a entrare nella storia. 3, 2, 1, 3! A Banari, paesino di 570 anime in provincia di Sassari, tutti hanno risposto all'appello. Ed ecco la foto con il gruppo più grande del mondo, una comunità reunita con due obiettivi, stabilire un record a Guinness dei primati per la fotografia con il maggior numero di persone, ma soprattutto provare anche così a combattere lo spopolamento. Banari è un esempio di tutti i sud, di tutti i meridioni, non è che in Sarcidano, in Gallura. Paesini come Banari ne abbiamo quanti ne vogliamo, così come ce ne sono in Puglia. In tantissimi posti. In poco più di un secolo il paese ha perso circa mille abitanti, ma per questa occasione è tornato a Banari anche chi l'ha lasciata tanti anni fa. Sono partito da 59, tre settimane fa ho saputo di questa manifestazione e sono venuto per Banari. Due gli scatti, nel primo visi sorridenti ed emozionati, nel secondo i numeri, per far capire, spiega il fotografo, come gli altri ci vedono. Dietro quei numeri in realtà ci sono storie, sentimenti, nostalgia, ma in questa fotografia c'è soprattutto la gioia di esserci, di incontrarsi, di entrare nella storia e farlo insieme.